Entra nel mondo di Philips Whirlpool. Oggi insieme per dare più qualità alla tua vita. Frigoriferi non frosti con quattro zone a temperatura differenziata. Lavatrici che automaticamente risparmiano acqua, energia e tempo. Lavastoviglie efficienti e silenziose. Forni a microonde ancora più spazzosi e rapidi nella cottura. Elettrodomestici Philips Whirlpool. Studiati per te. Philips Whirlpool. Di qualità alla tua vita.